Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo nell'episodio numero 38 signori di questa vanilla Continuiamo oggi con la sistemazione dei nostri villageri Allora, intanto io vi ringrazio come al solito per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie signori Vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi E niente signori, e di continuare a seguire la serie signori In generale, in generale, a seguire e iscrivervi Signori, continuiamo con la zona dei villageri Intanto qui è diventata l'erba tutta che carina e coccolosa, perfetto I nostri amici hanno fatto conoscenza, ora si conoscono Hanno capito che dovranno lavorare se vogliono vivere E questo è già un buon passo avanti Allora, sto facendo un quarto giro di vetro perché sì, decisamente mi piace di più Che sia più bello alto Non lo chiuderemo perché sennò proprio mi sa di serra e di gabbia Ma così faremo questa sorta di zona aperta Così li possiamo sempre controllare e vedere cosa combinano Cosa combinano i nostri villageri A momenti sbagliamo a mettere il blocco, mannaggia Allora, ho visto su internet che in teoria i villageri non possono aprire le porte di ferro Però, sinceramente, non mi fido tantissimo Non mi fido tantissimo Quindi, ora piano piano studieremo qualcosa Anche perché siamo un po' vicini alla fontana Quindi, piano piano vedremo di studiare qualcosa Di sicuro dobbiamo sostituire questi blocchi Con... ok Intanto così loro non possono più scappare Metti l'altro qui E leva pure questo di qui Occhio a non rompere vetro perché ne ho pochissimo Perfetto, ok E loro sono belli e che chiusi Belli, tranquilli, chiusi lì dentro Dobbiamo semplicemente modificare un attimo qua la scaletta per salire E... ok Così riusciamo a salire Come facciamo a uscire? Non era più quella idea Qualcosa ci inventeremo Di sicuro, signori, iniziamo a fare qualche casettina carina e coccolosa Qualche casettina carina e coccolosa Recuperiamo un bel po' di legno La Craft in Temple ce l'abbiamo? Sì Allora, abbiamo legno di betulla E questo, sì, di acacia Abbiamo quello di betulla Ok Abbiamo quello normale, ne abbiamo solo sei Questo è un peccato Abbiamo quello nero, perfetto Abbiamo anche le scalette di quelle nere E le scalette di quercia normale Ok Va bene, diciamo che possiamo Possiamo lavorare con calma E fare quantomeno le prime due casette Diciamo di sì Diciamo di sì Facciamo due casette Così quantomeno i nostri amici hanno un punto dove poter andare a dormire Allora Io direi di fare due casette separate Così non si rompono le scatole a vicenda Iniziamo con la caccia Sì Con la caccia io direi di fare La caccia deve essere alta 3 Senza ombra di dubbio Quindi potremmo farla partire da qua E quindi fare 1, 2 e 3 Ok Prima di fare qualsiasi cosa preferisco fare il tetto La faremo larga 3 Gli basta? Facciamo la 4 dai Dai Sì sì Guardami, guardami Bravissimo Facciamo così Così là ci mettiamo una bella finestra Ok Qua ci mettiamo la porta Sì Gli basta Sì Che cazzo Che devono fare signori E cosa devono fare? Qua ci mettiamo la porta E questo sarebbe il pilastro per scendere Perfetto Dopodiché stessa cosa Da quel lato Ok Diciamo che la prima casettina Ce la potremmo avere così In maniera molto semplice Lineare Carina E coccolosa Ok Qua chiudiamo così Ok Qua mi manca un Spostati Spostati zio Qua chiudiamo così Ok Non c'è neanche qui Bisogna metterci la finestra Perché già ce l'hanno Ho finito il primo giro di legno Ok Adesso abbiamo anche il secondo giro Qui chiudiamo Ok Qui chiudiamo Qui chiudiamo Ok E qui chiudiamo pure Devi spostarti zio Se no non ti posso chiudere casa Ok Dai Una prima casettina Semplice Carina e coccolosa Ce l'abbiamo Leviamo questo letto di qua Glielo piazziamo dentro Glielo piazziamo dentro Glielo mettiamo Qui Glielo mettiamo così Così Può dormire Bello tranquillo Dovremmo anche sostituire un attimino I blocchi sotto Che gli mettiamo la quercia scura La quercia scura Quindi leva Leva quello Perfetto E metti la quercia Ok Leva questo E metti la quercia Ok Facciamo questo mix Di colori Signori Così Quanto meno Ok Occhio che se Entrano mentre manca il blocco sotto Volano E abbiamo perso i villageri Ed è quello che non vogliamo Ok Se sono andati già a corrigare Va bene Mi avete convinto Mi avete convinto Signori Dormiamo Dal punto di rinascere Come loro già dormono Io non posso dormire Ma stiamo scherzando Cos'è Una presa in giro Una presa di posizione Vabbè E allora io continuo a costruire Ok Diciamo che la prima casetta c'è Manca il tetto Manca il tetto Manca il tetto Che potremmo farlo Manca il tetto Ok Dammi la terra Dammi la terra Dammi la terra Dammi la terra Riusciamo a salire qui con la terra Penso di sì Ok Leviamo però Questi blocchi Che loro sono pericolosi Perfetto Dovremmo avere dei gradini Sì Ci li abbiamo Ok E facciamo molto semplicemente Una cosa di questo genere Signori Una cosa di questo tipo Se me li fa mettere Vai fammelo mettere Ok Ok Uno Due Torno su E tre Perfetto Uno E due Ok Qui ci mettiamo invece Questo E questo E chiudiamo così Qua ovviamente potremmo fare a giro Ovvero mettere Se metto questo Ok Mi fa l'angolo Perfetto Fammi l'angolo di qua Perfetto Dai Dai Mi piace Questa prima casettina Molto semplice Carina e coccolosa Mi piace Dai E' andata bene E' andata bene E' andata bene E' andata bene Prima casettina Fatta Ok Sì Sì Sinceramente ci metterei una torcia qui sopra Che non mi fa mettere Perché non mi fa mettere la torcia Cosa non ti piace del mettere la torcia qui sopra Ok Ora gli è piaciuto Questo è il nostro letto E così abbiamo la prima casa Poi io direi Lasciamo spazio 2 E facciamo la stessa cosa Facciamola di betulla però stavolta La facciamo di betulla Lasciamo spazio 2 E facciamo la stessa cosa 1 1 2 E 3 Ok Ok 1 2 E 3 Perfetto Di quanto l'abbiamo fatta larga? Non mi ricordo Vabbè abbiamo detto pilastro Pilastro 1 Porta 1 Pilastro Perfetto Ci siamo signori La seconda casettina sta prendendo forma Dai è così Dai è così Ci siamo Appena si sveglia il tizio Che troverà anche lui la sua La sua bella casetta Sarà molto contento Allora Qui No qui chiudiamo Niente qui possiamo lasciare aperto E gli mettiamo Gli mettiamo la finestra No Zio Dormi nel punto più sbagliato di questo mondo Qui così Sì Con la finestrella di qua Qua 2 Potremmo lasciargli la finestra Perché a questo gli ho chiuso tutte cose Tanto un po' di vetro Ancora ce l'abbiamo Scusa zio Ti sto passando di sopra Apri Quindi mettiamo poi la finestra Almeno gli entra aria Gli entra luce Cazzarola Così veramente Eh Mamma mia Ok 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 Manca semplicemente Questa parte di qua Che va chiusa Facciamo questo Che è un po' più scuro Però non è tanto più scuro Dovrei averci Dell'altro legno Un pochino più Un pochino Un pochino Un pochino Dovrei stare la terra qui Un pochino più scuro Che dovrebbe darmi più contrasto No Non devi mettere la torcia Devi mettere la terra Altra terra Perfetto Usciamo Sì Devo trovare un modo Per entrare e uscire Più velocemente Così Non è stata che spunta Non è stata che spunta L'obiettivo qual è? L'obiettivo Ecco Assi di abete Ce l'ho altro abete Io giungla Abete Perfetto Ce l'abbiamo L'abete ce l'abbiamo Abbiamo anche due porte bellissime Che mettiamo qui E assi di abete Li mettiamo qui Torniamo dentro Torniamo dentro Andiamo a mettere Il Il tetto dell'altra casetta Il tetto dell'altra casetta Questo lo vediamo Perché sennò Sta brutto E non ci piace Saliamo di qua Con la terra Ok Dove è la mia crafting table? Dove cazzare la mia crafting table? Va bene Non fa niente Va bene così Crafting table Caftata Mettete un attimo qua Facciamo Tronco di abete Fammene una botta Ok Facciamo un po' di gradini 4 8 12 Ma penso che questi mi bastino Penso che 16 mi bastino come gradini E iniziamo a piazzare Qui Sì così si fa più contrasto Mi piace di più Mi piace decisamente di più Gradino in mano Non torcia in mano Mannaggia a te T'avevo spostato T'avevo detto gradino in mano Gradino in mano Gradino in mano Continuiamo il giro Torcina strategica lì Perfetto Porta strategica Qui Ah qui dobbiamo cambiare il pavimento Sì Qui dobbiamo cambiare il pavimento 8 per l'ora Forse non mi bastano più Facciamo gli altri 8 16 ora mi bastano sicuro Quello sta dormendo Quindi Approfittiamo che lui dorme E non sta capendo niente Potevo recuperare il vetro Perché ero Uscito fuori Non lo sono dimenticato Palesemente Vediamogli il letto Lì si sentirà Oh mio dio Mi hanno levato il letto Dove dormo Oh mio dio Aiuto Aiuto Dove sta il legno di quercia Chiedo umilmente perdono Era betulla Betulla qui Perfetto Il letto del tizio Lo mettiamo Come all'altro Gli mettiamo Qui Così Se vuole può venire a dormire No Sta dormendo nel mio letto Il bastardo Perfetto Mettiamo una porta qui Una porta qui Ok Mettere anche un'altra torcia qui Sì Un'altra torcia qui Perfetto Leviamo Questa zona di qua Ok Qui c'entra un'altra casa No C'entra un 2x3 C'entra Va bene E C'entra un 2x3 Signori Va bene Allora facciamo cosa Loro dormono Dormiamo anche noi Così vediamo che passa Speriamo che passi la notte Speriamo che passi la notte Sì Speriamo che passi la notte Speriamo che passi la pioggia Ok Questo letto Oh Non vi lamentate troppo Perché vi vende a schiaffi La mia terra Dov'è? La mia terra È qui Perfetto Oh Avete due belle case Non rompete le scatole Dammi la terra Per salire di qua Ok Ok Allora signori Ora Momento Momento clou Momento clou Momento clou Momento clou Come si fa il leggio Come si fa il leggio Legio Come si fa il leggio Slab di legno E una biblioteca Perfetto Ok Ok Abbiamo anche questa Ora me la fai fare il leggio Legio Perfetto Ok E abbiamo il leggio signori E questa è tanta roba E invece il Il composter Come si fa Che in italiano Non so come si chiama Ehm Non lo vedo Non lo vedo Sì Uno lo facciamo Agricoltore E uno lo facciamo Eccolo qua Questo si fa con questo di qua Perfetto Allora Andiamo a dare Un mestiere A questi tizi Signori Prendiamo anche il vetro Prendiamo anche il vetro Così concludiamo le casette Se no Ok Allora interessa che ci sia quello che ci dia mending Signori L'obiettivo fondamentale è questo L'obiettivo fondamentale è che ci sia il tizio che ci dia mending Quindi saliamo di qua Riscendiamo Leviamo questa terra Perfetto Apriamo questa porta Mettiamo il leggio qui Ora qualcuno dovrebbe prendere questa professione Secondo No Secondo un'antica leggenda qualcuno dovrebbe prendere questa professione Bravissimo Hai capito tutto Mi dai il libro di mending Fortuna 1 Non hai capito niente Non hai decisamente capito niente Non hai decisamente Sì sì Sfogliati Sfogliati quello che vuoi Ma non hai capito niente Ma proprio minimamente Minimamente Siamo proprio fuori strada Dove il mio leggio qua Perfetto Hai perso la professione? Sì Dai Mi dai mending? Saccheggio No Non hai capito nemmeno niente stavolta Hai perso? Sì Chi ci diventa? Lui Mending? Tocco di velluto No Per quanto tocco di velluto potrebbe essere interessante Ma no Signori siamo nella cacca più totale Quello con la maglietta verde non acquista Non prende lavoro completamente Non ne vuole sapere niente Non gli interessa Non vuole lavorare Perché tu non vuoi lavorare? Perché non vuoi lavorare? E tu invece vuoi fare solo questi scambi? Perché l'ho colpito signori Siamo leggermente nella cacca signori Siamo decisamente leggermente nella cacca Mi dai ancora i stessi scambi? No Ok Ripristino Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo 33 diamanti 33 smeraldi E un libro Ok Non abbiamo minimamente 33 smeraldi Non so come cercarli 33 smeraldi Però lo lasceremo qui così Così Forse un giorno riusciremo a convincerlo in qualche maniera Però intanto è un passo avanti È un passo avanti signori Io l'unica cosa che voglio fare Cosa voglio fare? Non voglio fare più niente signori Va bene così Intanto abbiamo Abbiamo Una parvenza di case E di ripristino E questo già mi sembra tanta roba signori Tanta roba E dovremo trovare gli smeraldi Non so come trovare gli smeraldi Il fatto è che dobbiamo farli accoppiare Sì Dovrò farli accoppiare E poi così avremo più Più villager E questo verde Lo ammazzo Che non serve a niente Non serve a niente Detto questo signori Vi ringrazio per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i momenti Per i suoi genitori E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao Ciao